Ciao, mi chiamo Cynthia e ho 16 anni. Siamo sinceri, tutti abbiamo dei segreti. Probabilmente alcuni di voi nascondono i brutti voti o finiscono nei guai senza dirlo ai genitori. Ma immaginate se vostra madre ottenesse un lavoro nella vostra scuola e se venisse a conoscenza di tutti i vostri segreti. Che incubo! Io lo so bene, è quello che è successo a me. Iscrivetevi al canale e vi racconterò come ho dovuto combattere per la mia privacy. All'inizio andava tutto bene. Vivevo in un piccolo appartamento con mia madre e avevo una camera per me. Mia mamma cambiava lavoro ogni anno perché avendo frequentato solo la scuola dell'obbligo, le grandi aziende non volevano assomerla. Comunque abbiamo sempre avuto abbastanza soldi per andare avanti ed eravamo abbastanza soddisfatte della nostra vita. Naturalmente avevo dei segreti. Niente di grave, ma non raccontavo a mia madre tutto quello che succedeva nella mia vita. Per esempio non le dicevo dei miei brutti voti in geografia o che la sera invece di stare in biblioteca a studiare uscivo con i miei amici. Un giorno per sbaglio le ho detto che stavo uscendo con Bruce, che aveva un anno più di me. A lui lo studio non interessava molto, gli piaceva ascoltare il rap e marinava spesso la scuola. Ma lui mi amava e stavamo facendo sul serio. Dopo che mia madre ha scoperto la mia relazione con Bruce mi è subito sgridata. Mi ha detto che ero troppo giovane per innamorarmi e che dovevo concentrarmi solo sulla scuola. Mi sono pentita di averle detto di Bruce. Quanto mai? Ho giurato a me stessa che non le avrei più raccontato i miei segreti. La consideravo una mia amica, ma a volte era davvero insopportabile. E poi è successo qualcosa di inaspettato. Durante una lezione di educazione fisica ci è stato detto che sarebbe arrivata una nuova insegnante. Tutta la classe era molto interessata, ci chiedevamo come fosse. All'improvviso la porta della palestra si è aperta e... è entrata mia mamma. Indossava una tuta e aveva al collo un fischietto. Era uno scherzo. Non potevo credere ai miei occhi. Mia mamma era in piedi davanti alla mia classe e si è presentata. Sì, aveva iniziato a lavorare nella mia scuola. Ma perché? Non capivo più niente. Dopo la lezione sono andata da mia mamma e le ho chiesto cosa avesse intenzione di fare. Lei mi ha risposto che aveva deciso di lavorare a scuola così avremmo potuto passare più tempo insieme. La sua risposta non mi è piaciuta. Stava decisamente nascondendo qualcosa. I bei tempi a scuola erano finiti. D'ora in avanti sarebbe stato impossibile nascondere qualcosa a mia mamma. Un giorno i miei amici mi hanno invitata ad una festa. Volevo davvero andarci. Avevo bisogno di una pausa. Così sono andata da mia mamma per chiederle il permesso. Ma lei si è arrabbiata. Quale festa? Stai prendendo dei brutti voti in scienza e in letteratura. Vai a studiare. Ha risposto. Dannazione! Come lo aveva scoperto? Ma certo. Era diventata amica di tutti i miei insegnanti e questi la stavano tenendo informata sul mio andamento scolastico. Ormai non potevo più nasconderle niente. Così invece di andare alla festa sono rimasta a casa. Sono andata in camera mia. Ho iniziato a chiacchierare con il mio ragazzo e a lamentarmi di aver perso la mia libertà. Perché mia madre era stata assunta a scuola? Lui mi ha consolata e mi ha proposto di fuggire insieme. Mi sarebbe davvero piaciuto. Ma non volevo mia mamma si arrabbiasse. Il giorno seguente ho incontrato Bruce fuori da scuola. Così mia mamma non poteva vederci. Stavamo chiacchierando. Quando all'improvviso ho visto mia madre sbucare dal nulla. È corsa da noi e mi ha trascinata via per un braccio. Cosa ci fai qui, Cynthia? Non dovresti essere in classe a quest'ora? Ha chiesto arrabbiata. Non sapevo cosa risponderle. Non pensavo che ci avrebbe beccati. Poi si è girata verso Bruce e ha detto con cattiveria. E tu Bruce, non permettersi di avvicinarti di nuovo a mia figlia. Mi hai capito? Senza aspettare una risposta mi ha trascinata a scuola. Mentre camminavamo mi ha fatto una ramanzina e mi ha detto che non potevo frequentare dei ragazzi così irresponsabili. Ero scioccata. Mia mamma aveva delle spie a scuola. Sapeva tutto quello che facevo. Non riuscivo a sopportarlo. Quel giorno ho scoperto anche che si era fatta amica alcuni tra i miei amici e conoscenti. aveva dato loro dei buoni voti e in cambio loro le avevano raccontato gli ultimi gossip. Ovviamente le avevano raccontato anche di me, chi erano i miei amici, con chi trascorrevo il tempo, dove ci incontravamo io e Bruce quando uscivamo insieme. Aveva delle spie ovunque. Mi sono arrabbiata e ho deciso di non parlare più. Perché aveva deciso di starmi così tanto addosso? Era quello il motivo principale per cui aveva deciso di lavorare a scuola, era chiaro. Non avevo più una vita privata né alcun segreto. Era un incubo. Ho deciso di fare qualcosa. L'avrei costretta a lasciare la scuola. Così ho iniziato a sabotarla. Le spegnevo la sveglia del telefono, così non si sarebbe svegliata in tempo e sarebbe arrivata tardi al lavoro. Ero sicura che dopo diversi ritardi sarebbe stata licenziata. Ma anche quando la sveglia era spenta, riusciva comunque ad arrivare in orario. Quindi ho iniziato a mettere delle penne nella lavatrice quando mia madre lavava le sue tute. L'inchiostro sarebbe uscito e le avrebbe rovinate. Ma lei se ne accorgeva quasi subito. Andava in un negozio e comprava delle tute nuove. La sua tenacia mi lasciava senza parole. Era giunto il momento di ricorrere a delle misure estreme. Ho chiesto a Bruce di catturare una puzzola e di liberarla in palestra durante una lezione di educazione fisica. Secondo il mio piano, era l'unico modo per interrompere la sua lezione e per spedirla dal preside. Ma non ha funzionato. Mia mamma non aveva paura delle puzzole e ha deciso di trasformare la lezione di educazione fisica in una lezione di biologia. Tutti i tentativi di far licenziare mia mamma sono falliti miseramente. Sapevo che non se ne sarebbe andata. Aveva fatto amicizia con altri insegnanti. Gli studenti la adoravano e il preside la rispettava. Tutti volevano che restasse. Ma io no. Lei controllava ogni mia mossa e ha quasi causato la rottura tra me e Bruce. Credevo che avrei dovuto vivere in quel modo fino al diploma. Quando un giorno ho avuto l'occasione di porre fine a questa tortura. Quel giorno ho chiesto il permesso di andare in bagno durante una lezione. Mentre stavo percorrendo il corridoio ho guardato in palestra. Mia madre era lì e non era da sola. Stava abbracciando il mio insegnante d'inglese, il signor Bergman. Cosa stavano facendo? La porta era socchiusa e io li ho spiati. Sembrava che stessero avendo una conversazione piacevole. Ma non sembravano due semplici amici. Tra di loro stava chiaramente succedendo qualcosa. Anche se il signor Bergman era sposato e aveva dei figli. Ho realizzato che quello era ciò che mi serviva per riavere la mia privacy. Dopo scuola mamma mi ha detto di tornare a casa da sola. Perché lei avrebbe lavorato fino a tardi. Certo, come no. Come se ci credessi. Così ho fatto finta di tornare a casa. Mi sono nascosta dietro la scuola e ho deciso di spiare mia madre. Qualche minuto dopo il mio insegnante d'inglese è uscito dalla scuola e si è incamminato con lei per andare non so dove. Li ho seguiti. Appena si sono allontanati dalla scuola si sono presi la mano. Che viscidi. Chiaramente non volevano essere visti insieme. Li ho seguiti per tre isolati. Hanno raggiunto un bar e si sono seduti a un tavolo. Li ho spiati dall'altra parte della strada. Stavano chiacchierando e si facevano gli occhi dolci. Poi il signor Bergman ha baciato mia mamma. Lo sapevo. Stavano scendi insieme. Sapevo che la scuola non ne sarebbe stata contenta e ho capito cosa dovevo fare. Il giorno seguente ho chiesto a Bruce di spiare mia mamma per tutto il giorno e di farle un video quando era insieme all'insegnante d'inglese. Il mio ragazzo ha accettato con piacere. Non avrebbe comunque passato la giornata sui libri. Invece io sono andata a scuola. Bruce ha tenuto d'occhio a mia mamma per tutto il giorno. Durante la terza ora ha avuto fortuna. Il signor Bergman è andato in palestra e ha abbracciato mia mamma. Bruce ha preso il telefono e gli ha fatto un video di nascosto. Bene, avete capito cos'è successo dopo? Ovviamente il preside ha visto il video e mia mamma è stata convocata nel suo ufficio per una questione urgente. Il nostro insegnante d'inglese era già lì. Sono stati rimproverati per il loro comportamento, che aveva pregiudicato la reputazione della scuola nei confronti degli studenti. Il signor Bergman è stato punito e mia mamma licenziata. Mentre mia mamma se ne stava andando il mio insegnante d'inglese le ha detto che tra loro era finita. Ho vinto! Nessuno avrebbe più ficcato il naso nella mia vita privata. Potevo ricominciare a vivere come un tempo. Dopo le lezioni sono tornata a casa felice. Mia madre stava guardando la tv in silenzio e sembrava molto arrabbiata. Mi dispiaceva per lei, ma era lei che aveva dato il via a tutta questa faccenda. Ho deciso di parlarle. Non è stato facile. Alla fine ha ammesso che era innamorata del signor Bergman e ha detto che Bruce aveva rovinato la loro relazione. Mi sono arrabbiata. Le ho detto che anche lei aveva quasi rovinato la mia relazione con Bruce, che amavo. Ad ogni modo mia mamma mi ha guardata con aria seria e ha detto, Cynthia non capisci che stai facendo un errore. Lo stesso che ho fatto io. Non capivo di cosa stesse parlando. In quel momento mia mamma mi ha spiegato perché aveva accettato il posto a scuola. Dopo aver scoperto che stavo uscendo con Bruce, a cui non fregava niente della scuola, ha deciso di fare qualcosa prima che rimanessi ferita. Ha detto che stavo facendo le stesse cose che aveva fatto lei alla mia età. Mi ha raccontato che anche lei usciva con un ragazzo come Bruce. Pensava di amarlo e credeva che lui l'amasse. Quando aveva la mia età è rimasta incinta di me. Quel ragazzo l'ha lasciata subito perché non voleva diventare padre. E mia madre mi ha cresciuta da sola. Per quel motivo non era andata in università e non aveva ottenuto un buon lavoro. Ma mi amava con tutto il suo cuore e voleva proteggermi dagli errori che aveva fatto lei quando era giovane. Non ho mai conosciuto mio padre, ma questa è la prima volta che mia madre mi ha parlato di lui. Mi ha fatto riflettere. Perché mia mamma ha potuto sbagliare per amore e io non posso? Perché i genitori cercano di correggere i loro errori attraverso i propri figli? Dopotutto se mi limito a fare quello che vuole mia madre smetterai di essere me stessa? O sbaglio? Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto. Voglio decidere da sola come vivere la mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.